questo video è un get ready with me perché praticamente sto scendo perché devo andarmi a tagliare i capelli che ormai non si capiscono più dopo il mare insomma il sale dell'acqua di mare tutto il resto appresso sono veramente diventati ingestibili in quanto lunghissimi oddio non voglio tagliarli molto perché se no mi viene una sincope posso rischiare di morire distesa a terra spiaccicata senza i miei capelli quindi mi preparo con voi per questa uscita e poi alla fine del video quando tornerò vi farò vedere il nuovo taglio di capelli sicuramente sarà un taglio scalato corti sicuramente rispetto a questi ma non capelli corti ho già fatto la base ed ho usato la mia cremina prima del trucco che la my skin dell'essence per pelle miste e grasse ho usato un fondotinta minerale dell'amico perché fa ancora caldo correttore dell'essence veloce spiegativo sotto le occhiaie ma non me le copre tantissimo sempre dell'essence ho usato il kit per le sopracciglia ovviamente la parte scura per ridisegnare il mio sopracciglio e sono andata già a stendere sulla palpebra mobile il primer di la kiko che ho provato anche quello dell'essence però insomma rimane sempre il mio preferito quindi questo trucco che andrò a fare io lo chiamo verdone perché è molto verde di base praticamente userò questi casual e sono casual della stile ma insomma roba proprio lo costo nei metti così e questo è un verde si smeraldo e questo è un verde turchise vado prendo prima quello scuro tra su una riga non precisa faccio la stessissima cosa dall'altro lato prendo questo pennellino dell'avon che da una parte ha lo scovolino piatto e dall'altra c'è la peglina prendo lo scovolino piatto prendo lo scovolino piatto e lo guardo a stender un po' Oggi proprio le pagine mi danno il tormento, quindi niente ragazzi, chiacchieriamo un po' con il frattempo e niente, mi devo tagliare assolutamente questi capricchi perché non si può più, prendo l'altro stick, quello della dolchese, vado un po', bene io ho tutte le cose insieme, se ne venga, qua all'interno, qua, 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 e stendo altrettanto anche questo, ma ovviamente vanno fissati con l'ombretto, essendo ombretti in crema, non so se questi promettevano una lunghissima durata, però io per sicurezza, li vado sempre a fissare con l'ombretto, anche perché poi il risultato che voglio deve essere bello intensino, insomma, prendo la palettina di Kiko, questa vecchissima, probabilmente l'avrete tutti quanti, questa è la 01, ce l'ho da tantissimo ormai, non so neanche quanto, e prendo questo colore qua, che è un verde petrolio, lo prendo sempre con lo stesso pennellino, sì, è un segnale del risparmio, e lo picchietto dove ho steso il verde, quello più scuro. faccio la stessa cosa dall'altro lato, poi invece dove c'è il turchise, faccio un mischiaggio tra questo verde qui, che ho preso prima, e questo è il blu, più, un po' di blu in schiena, e lo voglio qua, che sembra lo stesso pennellino, ma in effetti dovrebbe essere più scuro all'interno, che all'esterno, non so se si vede questa cosa, infatti poi riprendo solo il blu, e ci rivado su, che non è proprio un blu blu, insomma, quindi, cioè, più, faccio la stessa cosa dall'altro lato, quindi mischio prima il verde con il blu, mi sento un buon artista, quando trucco mi sento un pittura, mi diverto con le tavolozza dei colori, a volte con risultati non grandiosi, oh, ma mi piace così, che tu, ma, e niente, fatta questa operazione, andiamo a riprendere quello che è il verdone scuro, e provate a colorare le ciglia anche io, ho fatto un mezzo guai, da al solito, quando succede sempre, e tutto scende in medio, autoconvincimento, rimpiato, faccio la stessa cosa dall'altro lato, in realtà si, dopo che mi ha emozionato, scritto, cioè, non che voi non mi emozionate, però, insomma, i guai li faccio uguale, niente, le pagine, proprio come così, questi capelli sparati, sì, c'è la zuccia, dicio, cio, 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 cio. Sotto. Lo leggo anche un po' con il sole, faccio lo stesso colore, faccio la stessa cosa di qua. Diciamo che questo trucco è simile a quello che ho come foto del mio canale, insomma, però non è proprio lo stesso, perché ho usato dei verdi diversi, diciamo che la base mi sa che è quella, se non un'altra matita, che è ancora più verde scura, insomma, di questa, infatti, come ombretto, poi, per fissarlo, è più suono. Quindi, fatta questa operazione, vado a prendere il cacciallo nero che non mi ero preparata, bene, fantastico, lo prendo, e sporco di tutti i colori dell'universo, perché lo metto sempre all'interno dell'occhio. Lo metto, appunto, all'interno dell'occhio. Vada. Fatta questa operazione, prendo un linex, più, e mi pulisco il dito sporco, bene, metto, e niente. Fatto ciò, ciò ho fatto. Vado in crisi. Prendo il pennellino da sfumatura, questo a codino di coniglietto, come lo chiamo io, e prendo questo panna, prendo il panna, e lo metto sotto l'arca da sovraccigliare. Un altro pochino, un altro pochino, un altro pochino di là, e stiamo a posto. Ho fatto tutto, prendo l'eyeliner, perché non è abbastanza intenso, non devo andare anche con l'eyeliner, perché io non sono contenta se no. e anche dall'altra parte. e vedo, mi sto truccando da lontano. messa fatta l'arigano messa che ho messo ho messo l'eyeliner vabbè prendo il mio amatissimo piegaciglia che non trovavo più l'ho ritrovato quello dell'achiko che ho comprato è tosto un accidente oh ma veramente è durissimo cioè assurdo devo fare una forza per usarlo incredibile cioè non mi sembra normale prendo il mio mascara preferito I love extreme dell'essence solo che vorrei provare quelli della Maybelline appena trovo un po' il tempo di andare a fare spesa lo vado a prendere però volevo che terminasse insomma prima questo fino a che faccia un nome aspetto proprio che finisce questo tra l'altro non lo so ma mi sento un po' di recensione ragazzi già se avete qualche opinione vostra e me la volete dire ditemela sinceramente andare a spendere soldi in più perché costa abbastanza in più quello della Maybelline rispetto a questo ditemelo se lo stesso è freddo sinceramente non me lo vado neanche a comprare proprio papele papele come si dice a Napoli cioè chiaro chiaro quindi fatto ciò lo vado a mettere anche un po' sotto per andare ad aprire lo sguardo quelle poche cigliose che ho sotto all'occhio quindi fatto questo dopo di che vado a prendere la terra questa qui e la qui qua ha un packaging bellissimo sto sembrato mi fa impazzire e nello 1 un po' qua sotto un contouring grossolano molto grossolano un po' sul mento un po' sul naso un po' in fruit visto che c'è ancora un po' di abbronzatura me lo posso permettere di farlo lo so che da qua sembro bianchissima non è che sia abbronzata chissà un po' di colore l'ho preso quindi non lo voglio precisare questo fatto quindi lo posso ancora fare l'inverno sicuramente questo servizio non lo facendo il fard il blush che è il color trend dell'Aron asciutto la pavarelle è che questo color fisca si chiama flora e lo metto qua sulle gote da subito un colorito sano proprio un peschino peschino alla fine di tutto prendo questa matita dell'FM che è un color nude e contorno le labbra non le uso spesso le matite per il contorno però allora tu dici vai dal parrucchiere e ti trucchi così è tutto questo casino sì ma non per qualcosa perché mi piace che quando esco da parrucchiere con i capelli in ordine no? devo stare in ordine pure col trucco una fissa una fissa malzana ma una fissa e poi prendo questo rossetto nude e questo è il trucco terminato ho fatto vedere tutti i prodotti che ho usato quindi niente ci vediamo dopo con il nuovo look fatemi sapere se vi piace o meno me lo lasciate nei commenti a dopo ragazze questo è il taglio terminato questo è il mio nuovo look non pensavo di poter tagliare così tanto i capelli vabbè il parrucchiere mi ha trovato di buon umore oggi e quindi niente fatemi sapere che ne pensate se sto meglio così o stavo meglio prima vabbè se stavo meglio prima li facciamo crescere e quindi niente ragazze vi volevo dire che avevo piacere se appunto mi lasciavate qualche commento con scritto se magari eravate coiuse di vedere la mia postazione make up premettendo che non è una postazione di quelle che avete visto magari in altri video mega iper gigante però comunque è una collezione di scritta e niente quindi volevo sapere questo se il mio nuovo look vi piaceva e che ad ottobre ci sarà una sorpresa per voi oltre che che è il mio compleanno probabilmente il giorno del mio compleanno ci sarà una sorpresina anche per voi non vi svelo niente vi mando un bacione e alla prossima ciao